gestione del cane senza la comprensione la gestione del cane riprende tanti aspetti organizzativi sociali familiari del giardino di tante cose tuttavia la gestione a mio avviso non può escludere di comprendere i comportamenti le emozioni il benessere del cane anche perché è il suo linguaggio il suo star bene mettersi nei panni dell'altro quindi del cane anche perché se spesso nella gestione ci sono errori di interpretazioni e quindi se manca la comprensione la conoscenza si corre più il rischio di effettuare errori di interpretazione non a caso nella gestione spesso le persone pensano a mio avviso sbagliando che il cane lo faccia apposta o che si senta colpevole o d'altro quindi è importante per evitare questi errori oppure che voglia essere anche dominante è importante quindi per evitare questi errori avere una chiara comprensione di come funziona il linguaggio il comportamento la comunicazione le emozioni del cane cucciolo adulto anziano che sia e dove si ha difficoltà è meglio farsi da aiutare aiutare in un esperto da un esperto nel comportamento nel linguaggio nelle emozioni nel benessere del cane ciao io sono stefano pesci istruttore eduatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nella risoluzione dei problemi nel benessere del cane nella comunicazione con il cane nella risoluzione dei problemi le share on cane insegnante e cani di famiglia sono anche l'idiatore del metodo to get our dog il mio sito internet è www istruttorecinofilo.it e ricordati a mio avviso è un errore la gestione senza comprensione perché porta spesso fuori strada e per comprensione mettendo la comprensione del cane e anche di noi stessi